Molti sono lamentati che non c'è nessuna segnalazione e la strada come potete vedere è abbastanza pericolosa in quanto c'è proprio un dosso creato ultimamente con gli ultimi lavori. Sicuramente è un'opera strategica per Campalto perché dovrebbe rispondere ai problemi dei residenti per quanto riguarda gli incidenti che sono stati in Via Orlanda, ma ultimamente ha dato parecchi problemi perché come vedete la strada è molto cambiata e in peggio. Non sono rimasti inascoltati gli ennesimi appelli da parte di cittadini e residenti di Via Gobbi a Campalto. Il Movimento 5 Stelle si è attivato. Abbiamo depositato due interpellanze all'assessore Boraso e all'assessore Zaccariotto dei lavori pubblici. Perché? Perché sia in Via Gobbi si sono registrate moltissime criticità sul manto stradale. Non ultima il dosso proprio all'altezza del futuro sottopasso. Abbiamo chiesto anche lì l'UMI e di vedere anche la progettazione, se questa progettazione non abbia delle problematiche. Come dimostrato più volte anche nel corso dei nostri telegiornali, il problema di Via Gobbi non è l'unico. Basta spostarsi in Via Martello per vedere quali ulteriori disagi sono costretti a subire i residenti. E nonostante segnalazioni e promesse, la situazione non è cambiata. L'altra interrogazione riguarda Via Carlo Martello, dove le famiglie sono praticamente prigioniere tra il cantiere del bypass e di una strada non asfaltata che non ha il marciapiede e non ha la possibilità di far circolare le persone in sicurezza.